buongiorno a tutti oggi è di nuovo sempre domenica e sempre il 9 luglio sono 11 39 e finalmente arriviamo all'analisi su dax che mi avete appena chiesto in uno dei commenti sotto quella di mib queste che sto per darvi sono informazioni estremamente importanti per la prossima settimana sono riflessioni riflessioni che possono permettervi di non perdere soldi innanzitutto ok partiamo iniziamo cicli superiori a che punto siamo arrivati siamo arrivati a ben 199 giorni di durata di questo annuale 199 superano la durata minima di 192 e ci dicono serenamente che appunto se abbiamo avuto un t più 5 rialzista questo non è più un biennale questo diventa a tutti gli effetti un nuovo potenzialmente anche quadriennale ok quindi non un ciclo piccolo attenzione per il fatto che qui veniamo da quanto veniamo da da qua e qua abbiamo avuto la chiusura di un pluriennale di un t più 8 poi abbiamo avuto 694 barre 200 200 200 200 non vi viene in mente che potrebbe essersi chiuso un t più 7 qui persino un t più 7 grazie a un raccordo di grado di grado t più 3 con un biennale un raccordo però riaccordo ce l'aspettiamo tra 2 t più 6 ok quindi questa è già un'informazione estremamente importante che vi do è vero che da qui abbiamo tutta la possibilità per far partire persino un t più 7 però ok perfetto l'allarme per bitcoin che andiamo a vedere teniamoci ancora t più 6 per il motivo dato dal raccordo e per il fatto che siamo su un secondo biennale primo biennale chiuso con anche un raccordo qui secondo biennale quindi non nuovo ma prima informazione estremamente preziosa affronte immagino di un ragionamento prezioso secondo biennale cosa significa secondo biennale che un analista quantitativo che utilizza i cicli pensa già ok per chiudere un biennale chiede una buona discesa ecco perché stiamo salendo tanto però se il biennale collegato a un altro biennale non chiude più soltanto un biennale chiede un quadriennale un t più 7 e per chiudere un t più 7 richiede un t più 4 ribassista non è poco ok diventa meno impattante se abbiamo tanta lateralità tanto impattante se abbiamo tanta salita d'accordo queste riflessioni le state facendo dopo che avete fatto il corso che trovate gratuito sulla playlist sul mio canale con oltre 15.900 iscritti che si chiama trading days questo corso l'avete fatto almeno un paio di volte è gratuito è non date poco poco valore alle cose gratuite date un tempo a voi stessi per dire ok voglio imparare la ciclica di base ho ancora per un po' di tempo a disposizione un corso gratuito fatto probabilmente da uno dei migliori analisti quantitativi che utilizza i cicli in Italia perché utilizza l'inverso perché utilizza anche i volumi perché è andato oltre la ciclica normale e perché andando a guardare sul suo canale posso andare a vedere che storico ha di analisi corrette di analisi sbagliate oltre 2300 video ci sono altre persone su youtube che valtano oltre 2300 video e oltre 6 anni di stoico di analisi tra video e scritti quindi la risposta trovate la voi controllate la voi per cui prima cosa importante raccontata seconda cosa importante a questo punto andiamo sugli inversi avete visto che in Italia siamo andati sopra al massimo assoluto a non mi ricordo quanto per l'Italia ma qui abbiamo un massimo assoluto a 16.290 lo vedete qua sopra massimo 16.290 quanto abbiamo fatto qua si 16.427 quindi questo che ritenevamo fosse un t più 6 che poteva essere di spinta ribassista e no si scusate è giusto è inverso distrazione mattutina qui siamo andati sopra ok quindi tutto questo movimento tutto un t più 6 inverso ok che è arrivato a questo punto a dunque venerdì eravamo il 7 a 420 barre si è tutto vincolato a continuare a salire salire ok perché abbiamo superato questo massimo potessimo individuare i due annuali inversi e abbiamo scoperto che non è possibile farlo perché questo biennale è scomponibile soltanto in semestrali in cicli t più 4 noi sapremo quanto ancora può durare la salita piuttosto che non abbiamo una possibilità tra virgolette di identificare una prima chiusura tra virgolette di annuale inverso qui e una seconda partenza di annuale inverso qui lì mancano due giorni qui su questo top siamo già arrivati a 214 giorni quindi oltre la durata minima ecco perché stiamo facendo tanta attenzione a questa discesa è un po' più comprensibile adesso la cosa perché avendo già il tempo minimo per la chiusura di un biennale di inverso 192 più 192 fa 384 giorni noi abbiamo fatto 403 giorni 404 quando vi avvisato da qui da questo massimo che cosa sta iniziando con questa discesa perché chi ha fatto quel corso varie volte e sa quindi che cos'è un raccordo può rispondere alla domanda e mi può dire eh Jacopo possono partire varie cose che ci spingono e ci spingeranno a ribasso uno la cosa più semplice chiuso un biennale inverso un due anni di inverso un altro biennale inverso che swing abbiamo violato scendendo sotto questo minimo e altri minimi nel gruppo premium lo sappiamo seconda cosa che cosa può partire oltre un biennale è un raccordo quindi una finta ribasso con rialzo tra un t più 6 e un t più 6 di grado t più 3 trimestrale ok la terza cosa può iniziare un semplice annuale inverso che completi un t più 7 inverso che può durare come minimo in media un quadriennale ma come minimo può durare tre anni quindi uno due terzo anno in ogni caso se vedessimo volumi che ci riportano verso i massimi ci aspettiamo un raccordo e ci aspettiamo massimo essendo di grado trimestrale inverso 84 giorni in cui si fa finta di scendere poi si risale o lateralizza oppure 64 oppure 48 come minimo 48 e noi siamo a 15 di discesa se invece non ci fosse un rimbalzo e vedete che l'analisi precedente era corretta c'è stata discesa come avevo dato ok adesso se invece non ci sarà un raccordo proseguiremo nella discesa che target possiamo avere in media per una discesa di inverso per far partire un annuale inverso perché questa è la domanda principale che viene fatta vi faccio notare che ci siamo fermati sul primo livello di ritracciamento di fibonacci sopra la media mobile scusate il livello inferiore dell'acumo ok per ora ci siamo fermati lì e peraltro abbiamo un settimanale vincolato ribasso che è arrivato però a già una condizione necessaria e sufficiente per chiudere per far chiudere anche un mensile può essersi chiuso anche un trimestrale da qui 76 barre siamo entro l'84 abbiamo tutta questa porzione di discesa è come se abbiamo un trimestrale ribassista abbiamo scusate una condizione per chiudere non soltanto un mensile ma anche un trimestrale ribassista fatto e finito e a quanti giorni siamo? qui siamo a 198 giorni quanti giorni dura? minimo un annuale lato indice e lato inverso qui abbiamo la condizione per chiudere un annuale qual è la condizione che ci serve per chiudere un annuale? lato indice semplice un sottociclo di 3 gradi inferiori ribassista T più 5 meno 3 gradi inferiori abbiamo T più 2 noi abbiamo 24 barre di ciclo ribassista e ne abbiamo di più qui possiamo aver chiuso un annuale intero e rimbalzare per salire e per continuare o con un raccordo oppure semplicemente con la continuazione del tempo un biennale di inverso attenzione perché se non riusciremo ad andare sotto questo livello a 15.450 nel proseguio delle prossime giornate si parte ok? si rischia salita è vero un mensile può arrivare fino a 43 barre quindi siamo a 27 fate voi il conto di quanto ancora si può andare avanti 16 giorni rimbalzo del gatto morto discesa rimbalzo del gatto morto discesa si può arrivare al quinto T settimanale di ribasso e si può scendere fino a questo livello sereni sereni a noi però interessa sapere che swing è stato violato da questo massimo che ciclo può partire in questo momento a livello di tempo semplice un T più 1 può dare vita a un T più 3 e un T più 3 può essere un raccordo come la partenza per ora di un annuale inverso o di un biennale inverso questa candela è molto bella qui peraltro altra cosa interessante abbiamo se non mi ricordo fa male ma lo vediamo eventualmente qua sui cicli abbiamo un island reversal ok quella figura di inversione che è fortissima che vi faccio vedere quella che anni fa mi fece male sul petrolio ecco perché la ricordo così bene da un errore imparo eccola qua ok island reversal fatto e finito spinta verso il basso fortissima qui ho scritto new T settimanale ma se iniziamo ad aprire con poca forza se non supereremo la media mobile a 50 periodi se avremo buttati fuori dall'accumo questo diventa il decimo T meno 3 questo l'undicesimo T meno 3 si va ancora a chiusura e si ritorna qui sotto per ora il trend è completamente cambiato su DAX spinta fortissima ribasso primo impulso tentativo di rimbalzo e 10 no è una finta nulla di particolare guardate abbiamo recuperato tanto più del 50% della discesa poi catastrofe di discesa esattamente come segnalato nella precedente analisi leggo ancora commenti di persone poco esperte che mi dicono ma sembra che tu dica che se non si sale si scende e se non si scende si sale ahimè no anzi fortunatamente no perché fortunatamente no perché chi conosce i cicli sa perfettamente che cosa sto dicendo il rischio che c'è in questo momento che si scenda forti per la partenza di un annuale o di un biennale inverso ma la violazione degli swing è solo il primo dei tre elementi che ci servono per dire che ci sarà più discesa che potrà partire un annuale inverso e che potrà partire un biennale inverso perché poi servono volumi e quindi candele rosse non candele verdi e che non ci siano rimbalzi forti ci siano rimbalzi del gatto morto e discese più profonde e noi questo possiamo vederlo tranquillamente e lo può vedere chiunque non solo studi ma anche non studi e dica ah ok guarda ci sono già dei gap up di fuga e stiamo tornando su è un raccordo è una finta ribasso con rialzo non parte hanno fatto finta di far partire un annuale inverso un biennale inverso è stata una finta invece si va a salire per cui di nuovo lunedì torniamo in trincea ragioniamo sempre di lavorare sui t-3 e sui vincoli dei t-3 e t-3 ricordando che per ora la tendenza volumetrica è ribassista e solo una tendenza volumetrica e rialzista forte la può spezzare e può rompere e invalidare e annullare l'island reversal che ci dice discesa ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché tra poco vado a mangiare e mi preparo per eventualmente fare ancora un'altra analisi se voglia su oro ma oro nasdaq volevo dare un'occhiata al wti non so vediamo ok e anche domenica e quindi mi dedicherò alla famiglia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti